Torino, Inter termina da 0 a 3, il Torino perde contro l'Inter oggi 21 ottobre 2023, partita di serie A Il Torino rimane infatti a 0, l'Inter fa 23 gol che la portano alla relativa vittoria A segnare per l'Inter è stato Turam nel secondo tempo, Lautaro Martinez sempre nel secondo tempo E Calanoglu su rigore ovviamente nel secondo tempo, nella parte finale Un secondo tempo veramente fatto di gol, un primo invece senza alcun gol, purtroppo per fortuna a seconda di punti di vista Per quanto riguarda le statistiche di ciascuna squadra, più possesso di palla per l'Inter rispetto al Toro Più passaggi per l'Inter e unite unite una uguale precisione nei passaggi per entrambe le squadre in questione Per il Toro e per l'Inter Alla fine però la vittoria giunge nelle mani dell'Inter che giocando fuori casa, non in casa, stravolge il Toro Il Toro gioca in casa, Torino e Inter infatti e non Inter Torino Iscrivetevi al canale narrativo italiano, commentate e compilite all'Inter